Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mono Esporzio Reset Siamo qui con il riassunto della dodicesima giornata di campionato di Serie A Team, giornata che ha visto particolarmente il Milan ridurre il suo svantaggio in classifica Accorcia l'Inter, non la Juve che non ne ha approfittato, mannaccia a noi La Roma si inserisce in zona Champions, complice anche il passo falso del Napoli Di questo ne parliamo e vedremo nel video Ma detto questo non perdiamoci in chiacchiere, ringrazio il buon Antonio per l'Epic Start E noi partiamo subito, vamo ragazzi! E partiamo ragazzi dalla partita la quale sicuramente ci abbiamo sperato tutti, eccetto i milanisti Altro passo falso del Milan, il secondo consecutivo, il secondo passo falso consecutivo del Milan Due pareggi contro Genoa e Parma che sinceramente non mi aspettavo Cioè mi aspettavo che il Milan facesse un passo falso, magari anche con una scompitta in vicini due pareggi Ma non mi aspettavo che facesse due pareggi consecutivi Comunque ci abbiamo sperato tutti, il Milan che riesce a rimontare due volte la doppietta di Destro Il che ha dell'incredibile che praticamente ha segnato Destro, tra l'altro l'ex della partita Continua la maledizione dei numeri 9 in casa Milan Rossi e Neri che riducono a semplicemente un punto, solamente un punto di vantaggio sull'Inter Per 3 su Juventus e Roma, poi seguono Napoli e Sassuolo Per quanto riguarda il Genoa è un punto comunque abbastanza prezioso in ottica salvezza Si stacca dall'ultimo posto di Torino e Crotone si porta a meno 3 dalla zona verde Che gli consentirebbe di restare in Serie A Detto questo ci abbiamo praticamente sperato tutti a questo passo falso del Milan Non so in quanti magari al fatto che il Genoa facesse punti Ma ok, passiamo alla prossima partita da analizzare La Fiorentina che praticamente non sa vincere più, non vince manco in casa col Sassuolo Vero che il Sassuolo è una grande realtà del campionato di quest'anno ragazzi Però è altrettanto vero che comunque la Fiorentina giocava pur sempre in casa col Sassuolo E almeno un pareggio lo deve strappare Il pareggio l'ha strappato ma considerato che non vince per le altre partite Serveva una vittoria ragazzi Fiorentina che rimane inchiodata al 17esimo posto in classifica Due vittorie su dieci sono sicuramente un bottino molto molto negativo 12 gol in 12 partite anche molto molto negativo Prandelli sta facendo male Mi sa tanto per loro che come ho detto fin dall'inizio doveva rimanere Iachini Per quanto riguarda il Sassuolo si porta a 23 punti Ed è già ragazzi praticamente a più 16 sulla zona retrocessione Quindi anche quest'anno ormai il Sassuolo si è salvato 6 vittorie, 5 pareggi e appena una sconfitta per i neroverdi Che li vedono proiettati per il momento alla quinta posizione in classifica Alla pari del Napoli 11 risultati positivi su 12 per i neroverdi Che stanno veramente facendo un grandissimo campionato Anche complice lo straordinario attacco che si ritrovano grazie all'allenatore Per quanto riguarda il Verona crollano Rimangono comunque settimi in classifica E comunque con 12 punti di vantaggio sulla zona retrocessione Il che è veramente ottimo per gli scaligeri Considerato che hanno venduto i loro pezzi più pregiati Come Kumbullà, come Ramani, come Armrabat Però insomma si sono rimpiazzati bene Hanno comunque tanti giocatori forti come Faraoni, come Zaccagni, come Lovato Che sarà il prossimo giovane che venderanno Spoiler, futuro, perché io vengo dal futuro ragazzi La Sampdoria aveva bisogno di questi tre punti per acquisire fiducia La Sampdoria che ottiene così la quarta vittoria in questo campionato Era quattro partite che la Sampdoria non vinceva Dopo un pareggio o tre sconfitte Torna a vincere la Sampdoria che si porta a più sette sulla zona salvezza Può stare all'uno per il momento abbastanza tranquilla Al decimo posto in classifica alla pari dell'Udinese Quindi veramente veramente bene la Sampdoria Bene anche il Verona che sta addirittura a cinque punti più avanti rispetto ai Liguri Non mi ricordavo come si dice Liguri, Brucerchiati come volete Li chiamate, passiamo invece alla prossima partita da analizzare Una pochezza che può costare cara Allora io non dico, di solito in un pareggio dico alla fine si accontentano tutte e due No, in questo caso sembrerebbe che si accontentano tutte e due Perché magari tutte e due ne escono felici con un punto Ok, il Parma ora è a più cinque sulla salvezza Il Cagliari a più sei Quindi insomma hanno guadagnato un punto tutte e due Ma alla fine con un pareggio in totale ha i due punti Con la vittoria nei tre Quindi insomma non è che ci ritorna tanto il ragionamento Nel senso è una pochezza che può costare cara Se il Cagliari si spingeva per ottenere questi tre punti Non era a più sei sulla salvezza ragazzi Ma era a più otto Così come il Parma invece di essere a più cinque era a più sette Quindi insomma una pochezza che secondo me Non era necessario aver preferito vedere più una partita combattuta E vedere un pareggio 0-0 con una partita iper combattuta Che vedere una partita a ritmi veramente lenti, bassi Certo, io la partita non l'ho guardata L'ho guardata magari dagli highlights Sapete che io sono patito di pallone, lo seguo a 360 gradi Però non è che posso guardarmi tutte e tutte le partite Una pochezza che dicevo in Parma Cagliari Secondo me può costare cara Anche perché io a quell'ora stavo gufando Milano e Inter ragazzi A proposito di Inter manita nell'azzura Cioè da fare i complimenti all'Inter Che ha reggito veramente bene all'uscita degli ottavi di finale di Champions Con queste due vittorie Ma non sono semplicemente due vittorie Ho scritto manita nell'azzura Per il semplice motivo che L'Inter ha ottenuto cinque vittorie consecutive in campionato Non so da quanto non capitava all'Inter Di fare cinque vittorie di file in campionato Fotto stai che sono il miglior attacco di Serie A Ben 30 gol in 12 partite Di solito le squadre di Conte hanno una iper difesa Quest'anno l'Inter vacilla in difesa Perché ha Achivi che in difesa fa danni Dall'altra parte è Perisic Che non è proprio un esterno difensivo Anzi, lo vedrei meglio come seconda punta In difesa hanno contato i bastoni Skriniar e De Vrij Che ce l'ho tutti e tre al fantacalcio Per il Napoli soffrono i big match Perché loro hanno perso solo contro Sassuolo Inter e Milan Il resto le vincono tutte anche facendo tipo 4-0, 5-0 L'unico big match che hanno vinto è con la Roma Che peraltro è proprio davanti al Napoli Il Napoli che perde troppi scontri diretti Se vuole lottare per lo scudetto Perché nonostante tutto il Napoli ha meno cinque della vetta Se vuole lottare per lo scudetto Questi punti il Napoli non li deve perdere Qualche big match lo deve anche vincere Tutti felici? Qua forse sì Qua forse sì Perché l'Udinese è più avanti rispetto a Cagliari e Parma Infatti l'Udinese è a più sette sulla zona Salvezza e non a più sei E per il Crotone comunque un punto che fa morale Perché un punto ottenuto in trasferta con l'Udinese fa comunque morale L'Udinese è come ogni partita Viene trascinata da De Paul Viene trascinata da Pereira Però insomma questa volta non riesce a concludere Partita anche questa giocata a ritmi bassi ma non troppo Ho visto ritmi più bassi sinceramente in Parma Cagliari Questa perlomeno è stata più combattuta dal punto di vista delle statistiche e dei tiri insomma Per il Crotone è il secondo risultato utile consecutivo Molto meglio l'Udinese perché per l'Udinese questo è addirittura il quinto risultato utile consecutivo Pensate che l'Udinese aveva ottenuto solamente un risultato utile nelle prime sei partite Nelle altre sei hanno ottenuto praticamente cinque Veramente bene l'Udinese che in un periodo di forma straordinario Però comunque nonostante tutto sono solamente sette punti di vantaggio sul Genoa Comunque con una partita da recuperare con l'Atalanta Dove difficilmente vedo che l'Udinese faccia punti Ma ok ragazzi per tutte e due penso vada bene così Bene evento Lazio 1-1 Lazio che succede? C'è nel senso che succede Manca la continuità ragazzi Ma non ci vuole un genio a dirlo Non ci vuole Manu Sport a dire che la Lazio manca la continuità Il problema è capire perché manca Perché è una squadra che fa cinque vittorie su dodici E che dovrebbe lottare perlomeno per la Champions League E invece la Lazio si ritrova già a sei punti dalla Champions League Cioè a sei punti dai cugini da Roma Insomma ragazzi vuol dire che c'è un problema di fondo Perché Luisa Alberto, Milinkovic, Immobile Siamo tutti gli anni Non è una squadra che è stata rifondata dalle basi Per dire manca la continuità Alla Lazio manca e non si sa perché Ci deve essere qualcosa, qualche problema proprio all'interno Psicologicamente secondo me nei giocatori Che sinceramente non capisco Non riesco veramente a capire Vedremo come si andrà a concludere questa storia Ma la Lazio che si trova dietro a Verone e Sassuolo È veramente un qualcosa di incredibile Per quanto riguarda il Benevento Quattro risultati utili in cinque partite Una media comunque da salvezza Vabbè 12 punti in 12 partite Non lo so se 38 punti basta Non gliela voglio occupare Per quanto riguarda il Bologna Bologna sottotono Bologna sottotono perché io rispetto agli altri anni Lo vedo molto più spenta Cioè ragazzi alla fine già sette sconfitte 13 punti in 12 partite Mi sembrano un po' pochini Per una squadra allenata da Mijailovic Che dovrebbe lottare per il centro classifica Dove essere costantemente da metà sinistra Eppure le avevano trovata la punta Invece si mettono a pareggiare con lo Spezia Non che lo Spezia sia una cattiva squadra Però una difesa veramente ridicola Per me lo Spezia è la peggiore difesa di Serie A E se andiamo a vedere i numeri Lo Spezia praticamente No Il Torino è la peggiore difesa di Serie A Il Torino 30 gol subiti Contro i 25 di Spezia e Crotone Però insomma per me Era la peggiore difesa di Serie A Perché il Torino Conizio, Unculu, Rodriguez, Voivoda Secondo me è per Gianpaolo Che giocano così in vale Però il Bologna ragazzi Non so se lo vedo sotto tono Per quanto riguarda lo Spezia Complimenti a loro 11 punti in 12 partite Altro pareggio veramente preziosissimo Zolana altro po' diventa un top player Però insomma sta andando veramente bene Stanno facendo un bellissimo campionato Per quanto riguarda la Roma Con il Torino Tutto confermato Tutto confermato Che la Roma non perde Neanche uno di questi match facili Alla fine giocava in casa Con l'ultima in classifica Quindi doveva essere un match facile Ma non dovrebbe essere facile Perché il Torino Come detto prima Con giocatori come Belotti Come Bonazzoli Come Voivoda Come Riccardo Rodriguez Il Sonculu Si rigono un po' a lottare per la salvezza Almeno per il centro classifica Non dico da Europa League Anche se hanno il miglior attaccante italiano In circolazione Nonché Praticamente capocannoniere Della Serie A Ragazzi Perché Belotti è a meno uno Da essere il capocannoniere Della Serie A Grandissimo giocatore Ce l'ha anche al fantacalcio Simone Però insomma ragazzi Non lo so Sto facendo godere Secondo allenatore Bellotti che è sicuro Però non lo so Il Torino Boh dove se ne era Gianpaolo Forse non gli hanno fatto La squadra che voleva lui Di sicuro non si stanno trovando bene E non si risolve Risolleveranno presto Secondo me Una vittoria in 12 partite Per una squadra così Comunque buona Centro classifica Mi pare Non sono veramente pochi Devono forse far fuori Gianpaolo Non lo so Detto questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video vi sia piaciuto E se ti è piaciuto ti invito a lasciare mi piace Cosa con te E non dici like Commenti se siete d'accordo O disaccordo con me Se non l'hai ancora fatto Iscriviti al canale Da Morisport07 E tutto E noi ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi E in descrizione Il video ordini Per sicuramente su Instagram Grazie a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.